Passiamo al pugilato, questa mattina a Roma è stato presentato il Mondiale dei Superleggeri, versione WBA, tra il detentore Koji e lo sfidante Iranaka. La conferenza stampa, arricchita da un videotape sul campione argentino, è stato il primo passo di avvicinamento verso il match ridato che Telemonte Carlo vi proporrà in esclusiva sabato 29 da Vasto. All'incontro con la stampa era presente Akinobu Iranaka, il 25enne pugile di Okinawa che si annuncia con le credenziali di un picchiatore implacabile. Koji invece, che è famoso in Italia per aver strappato la corona al nostro Patrizio Oliva, ha preferito non interrompere i suoi allenamenti nella cittadina abruzzese. Nella prima giornata romana, il boxer dal volto rude si è recato di buon'ora in palestra, dove si è fatto ammirare per la grande carica agonistica ed una serie di movimenti di chiara ispirazione orientale. Per lui si tratta del primo assalto al titolo, ma nonostante il noviziato, Iranaka non mostra timori reverenziali. Non vedo l'ora che arrivi il match, però io sono estremamente rilassato e la mia condizione fisica è al massimo della forma.